Oggi parliamo di vino e di come ottenere le migliori condizioni col Medio Credito Centrale. Voi intanto iscrivetevi al nostro canale YouTube. Ma non chiedere all'host se il vino è buono. È un vecchio detto che dice che non si può chiedere al venditore un'opinione su ciò che sta vendendo, via. Le banche in questi sei mesi sono state felicissime delle operazioni col Medio Credito Centrale e hanno ottenuto grandi, grandi vantaggi. Alcune aziende invece avrebbero potuto avere delle condizioni migliori dalle banche. Quindi oggi a 45 giorni dalla fine del periodo di agevolazione dal Medio Credito Centrale andiamo ad affrontare quali aspetti si possono mettere in piedi per ottenere le migliori condizioni. Pausa operativa. I prossimi 4 spunti più 1 che andremo a vedere sono tutti spunti da utilizzare nella trattativa iniziale con la banca. Ovvero nel momento in cui la banca non ha ancora dispiegato tutto il suo potere contrattuale contro di noi e quindi noi abbiamo ancora la possibilità di incardinare degli aspetti a nostro favore. Ricordatevelo. Punto numero 1. Chiariamo alla banca che non vogliamo dare fideuzioni nuove che non esistono o neppure vogliamo allargare le precedenti. Le banche ce le chiedono in automatico anche quando non ce n'è bisogno. Se noi definiamo questo aspetto immediatamente costringeremo la banca ad argomentare con precisione il motivo della richiesta della fideuzione ed elimineremo così tutte le volte che ci chiederanno le fideuzioni inutilmente solo per prassi. Punto numero 2. Esattamente come nel punto precedente informiamo la banca che non siamo interessati ad utilizzare consorzi di garanzia aggiuntivi al medio credito centrale. Le banche ce lo proporranno perché con questa garanzia aggiuntiva potranno avere il 10% di garanzia in più solo che il consorzio di garanzia esterno deve essere pagato e in questo periodo è molto molto caro. Pertanto dichiarandoci disinteressati alla garanzia del consorzio esterno costringeremo la banca ad argomentare con precisione il perché questo serva per noi. Nel caso serve lo sottoscriveremo, in tutti gli altri casi elimineremo una richiesta che è fatta esclusivamente per prassi e per fini di bilancio. Terzo aspetto, i tassi di interesse. Arriviamo all'inizio della trattativa con ben chiaro in mente che tasso di interesse vorremmo. Andiamo a cercarlo magari nei dati che vengono pubblicati dalla Banca d'Italia. Le banche durante la rinnegoziazione fanno degli sconti rispetto ai tassi precedenti in modo stretto necessario. Se arriviamo con un tasso reale di mercato basso riusciremo a portare la banca verso uno sconto reale. Quarto aspetto, i costi di istruttoria. In questo momento il Medio Credito Centrale, per legge, regala l'istruttoria delle operazioni di garanzia. Nonostante questo alcune banche stanno chiedendo dei costi di istruttoria per gestire questo sovraccarico di lavoro. Ebbene, tutto ciò è lecito, ma chiariamo bene alla banca una cosa. Possiamo venire nei incontro e pagare questo costo in cambio però di un'ulteriore riduzione dei tassi di interesse dell'operazione. Una mano lava l'altra. Abbiamo detto 4 più 1. Ecco l'ultimo aspetto. Alcune banche in questo momento sovraccariche di lavoro stanno proponendo ai clienti di gestire le rinegoziazioni nel gennaio del 2021. Questo lo dicono perché ipotizzano che in questo periodo transitorio di agevolazione, di accesso al Medio Credito Centrale si prolunghi anche il prossimo anno. Ciò non è assolutamente detto. Alle condizioni attuali tutto si fermerà il 31 dicembre. Quindi se volete essere sicuri di non ritrovarvi con delle garanzie che vanno a scadenze, che non possono essere rinnovate col Medio Credito Centrale il prossimo anno chiedete la rinegoziazione in via anticipata adesso. Questo vi permetterà di essere sicuri di entrare in questo meccanismo. Oggi vi abbiamo dato qualche spunto operativo molto importante. Se avete delle domande scriveteci. Se avete dei casi eccezionali che volete rendere pubblici vi faremo da Megapuno, scriveteci lo stesso. Noi ci vediamo al prossimo video. Voi iscrivetevi al nostro canale YouTube. Alla prossima!